La capitale dei Trulli a misura di bambino e adolescente è la sfida della seconda edizione del festival promosso dall'associazione Silva Tour & Didactics in sinergia con amministrazione comunale, consiglio regionale, Camera di Commercio di Bari e Fondazione Puglia per un programma di laboratori, giochi, presentazioni di libri accessibili da 0 a 14 anni ma anche i genitori. Questo mondo dei bambini così vario, così importante, va sostenuto soprattutto in queste iniziative che hanno un aspetto didattico molto importante per coinvolgere la parte più giovane, giovanissima della nostra città all'interno di attività così importanti. Lo stesso abbiamo fatto per esempio nel finale dell'invio della candidatura a Capitale della Cultura. L'idea è quella di portare le associazioni del territorio di Alberobello ad impegnarsi con dei laboratori dedicati ai più piccolini e dare loro la capacità e la possibilità per un giorno di giocare all'aria aperta in spazi magari anche inusuali della nostra Alberobello. L'iniziativa in calendario il 12 e 13 ottobre prevede anche una mostra fotografica che racconta la vita dei giovani del mondo tra baraccopoli e campi profughi. Da qui parte l'idea della mostra Truth of Ice che è quello di riflettere sulla scuola, sulla società nei paesi del terzo mondo più svantaggiati.